Prima della Mesa vi abbiamo promesso un viaggio bellissimo all'insegna della pace e noi questa promessa la manteniamo. Ci spostiamo al centro dello studio e diamo il bentrovato con tanta gioia a Chiara Mirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti. Grazie per essere con noi stamattina. Grazie, grazie a voi, buona giornata a tutti. Chiara, noi iniziamo questa giornata, diciamo, è la prima puntata dopo Pasqua. Pasqua per tutti significa resurrezione, Pasqua per tutti significa luce. La pace interiore è il tuo nuovo libro che ti insegna come vivere nonostante tutto ciò che ci circondi in questa pace interiore, portare la luce che il tuo sorriso ha portato a tantissime persone. Sì, ho sentito così il desiderio di condividere alcuni suggerimenti pratici che mi hanno aiutato un po' in questi anni di immersione nell'inferno di tante persone. Ecco, in cui la pace era sempre messa a dura prova perché tante responsabilità, tanti dolori che raccogli ogni giorno, tante croci. E ho visto che ci sono alcuni escamotage, diciamo, per riuscire a custodire la pace anche nei momenti difficili. E in questo tempo di pandemia mi sono resa conto che quello che io ho vissuto per 30 anni, che è uno stato d'allerta, cioè di pericolo continuo, che certamente non aiuta a non avere ansia, stress, stati d'animo negativi. Lo stanno vivendo un po' tutti, tant'è vero che adesso l'Unicef, dal recente report, risulta che dopo la pandemia una persona su sette ha disturbi mentali, depressione, ansia, crisi di panico. Ecco, e quindi ho visto che c'era una pandemia nella pandemia. Allora ho detto, beh, perché non provare a condensare un po' tutto quello che mi ha aiutato in questi anni a mantenere la pace interiore in questo libro, che più che un libro vuole essere proprio un manuale pratico con esercizi pratici per aiutare le persone a liberarsi dall'ansia, dai pensieri negativi, dagli stati d'animo negativi, dallo stress. Tu dici una cosa che è un'immagine semplice ed efficace. Quando qualcuno si fa male, anche quando siamo bambini, la mamma ti dice sempre di disinfettarti dove c'è la ferita per cercare di risanarla, di curarla e di proteggere naturalmente il tuo corpo. Lo stesso discorso però non viene applicato quando si tratta dell'anima, dello spirito. Sono quelle ferite rispetto alle quali si va avanti senza curarle, magari senza cercare di lenire il dolore, senza trovare quel balsamo giusto e però la vita poi chiede il conto di quelle ferite. Assolutamente. Io quando ho iniziato a cogliere, 30 anni fa, ragazzi di strada, quindi con storie veramente drammatiche, mi sono accorta che il problema non era tanto la tossicodipendenza, l'alcol, la vita in strada che avevano fatto di vario genere, ma era proprio questa morte nel cuore e queste ferite profonde che avevano non solo ferito, ma spezzato il cuore, reso chiuso come pietra per bisogno di difendersi. E quindi mi sono chiesta, ma io cosa posso fare? Perché non è che basta che li accolgo, gli do un letto o un pasto caldo, era necessario questo accompagnamento nella ricostruzione proprio di queste ferite. E lì è nata questa idea di un percorso che avesse anche un po' come base queste luci del Vangelo, che è colui che ci ha creato, chi più di lui conosce il nostro cuore, lui ha detto sono venuto proprio a fasciare le pieghe dei cuori spezzati, in un percorso di conoscenza di sé, di guarigione del cuore sull'arte da mare, che abbiamo chiamato Spirit Therapy, infatti questo libro è il primo di una collana che è la Spirit Therapy, che è questo percorso, che parte proprio dall'aver scoperto intanto la necessità di riconoscere e guarire queste ferite del cuore, e poi anche, e quindi c'è tutto il percorso per guarirle, ma anche dall'aver scoperto che nel nostro spirito, oggi si parla tantissimo delle potenzialità presenti nella mente, ci sono corsi su corsi, come sviluppare la mente, gli obiettivi, ecco nessuno ti parla non solo delle ferite del cuore, ma anche che siamo in maniera somiglianza di Dio, quindi che ci sono delle potenzialità immense dello spirito, e che proprio lì ci sono le chiavi per trovare poi quella pienezza di gioia, quella pienezza di pace, quella pienezza di libertà interiore che tutti noi cerchiamo, e così come se noi non nutriamo il nostro fisico, ci ammaliamo, la stessa cosa viene per lo spirito, oggi nessuno ci ricorda che abbiamo anche dei bisogni spirituali, abbiamo dei bisogni profondi di dare un senso, di rispondere a chi sono, cosa voglio, dove sto andando, il bisogno di pace, un bisogno di amore vero, un bisogno di verità. Ecco allora questo percorso ci fa fare un viaggio, il viaggio più affascinante che c'è, che viaggia alla riscoperta interiore di quel universo meraviglioso che c'è nell'anima di ciascuno di noi, perché siamo a immagine e somiglianza di Dio, e lì c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Qualcosa di nuovo che alle volte fa anche paura, può essere un abisso, può essere luce, ma può essere anche buio. Se però c'è qualcuno che ti accompagna in questo viaggio è più semplice trovare la luce e ricordarsi quello che tu ci stai dicendo. Noi vogliamo farvi vivere insieme a noi una storia, una di quelle storie che in qualche modo hanno curato il cuore e l'anima, e ce la racconta Simone Neste. Sono Gianni, ho 28 anni, sono nato a Montevarchi, vengo da una famiglia benestante, un fratello di 4 anni più grande di me. Ho condotto una vita regolare, l'infanzia e l'adolescenza. Tutto sembrava filare liscio. All'età di 19 anni sono caduto nella dipendenza del gioco d'azzardo. Lì mi si è aperto una porta, una porta di fuoco, proprio infernale. E dopo tre anni sono entrato nel giro delle discoteche, e quindi questo mi ha portato a conoscere il primo amore della mia vita, che è la cocaina. Nel momento in cui ero davvero stanco di tutto ciò, non trovavo però il coraggio di chiedere aiuto. e mio fratello un giorno, dopo ben cinque anni, è venuto a conoscenza di questa mia problematica e chiedendomi se questo era vero, ecco io lì ho visto una luce, una luce grande, gli ho chiesto di aiutarmi e grazie anche all'aiuto di mio padre sono arrivato a conoscenza di nuovi orizzonti. Oggi sono un uomo, mi sento proprio un figlio di Dio, grazie appunto alla spirit therapy e agli insegnamenti che Chiara insomma ci ha messo come strumenti nelle mani. Affronto dolore, affronto le gioie, affronto la sofferenza, proprio come quel Cristo in croce che si è preso i nostri peccati e è risorto, è risorto per salvarci appunto dai nostri peccati. Ho uno sguardo pieno, sono vivo, mi sento una grande luce dentro di me e aspetto quello che Dio ha continuato a progettare e a disegnare su me. Questa era la storia di Gianni, storie come queste e ognuna diversa, ognuna con la sua specificità perché dietro c'è una persona diversa, ne avete sentite, ne sentite e ne vivete tante a nuovi orizzonti. Questo libro si propone di raggiungere però tutti quanti, non c'è persona che questo libro non riesca a raggiungere perché ognuno nella propria vita ha quei nodi da sciogliere. Ci sono quelle barriere che diventano insormontabili o quei problemi che tornano a riaffacciarsi. La pace interiore è accessibile a tutti, non è una bacchetta magica però naturalmente ci vuole impegno. Assolutamente. Sì, io ho iniziato andando in strada nei quartieri più caldi pensando che i più disperati erano in strada, quindi ho voluto iniziare da alcuni inferni visibili. Allora la stazione Termini era veramente il Bronx in cui trovavi di tutto. Poi sono stati i ragazzi stessi, come Gianni e migliaia che ormai sono passati in comunità e che hanno detto ma noi vogliamo testimoniare questa nostra risurrezione ad altri ragazzi perché non vadano a cadere nei baratri in cui siamo caduti noi perché erano caduti in questi baratri cercando la felicità che il mondo ci propone e poi si sono trovati all'inferno. e quindi abbiamo iniziato anche ad andare nei quartieri benestanti per raccontare ai ragazzi, condividere le nostre esperienze e lì ci siamo resi conto di quanto oggi questa pandemia della pandemia, la chiamo io, del malessere dell'anima e anche quelle che sono le problematiche che caratterizzavano i ragazzi di strada sono presenti nella maggior parte dei giovani appunto la maggior parte dei giovani che noi incontriamo nelle scuole non da maschera a maschera come siamo soliti, relazionarci ma da cuore a cuore, ci raccontano le loro storie quasi tutti hanno una sofferenza per abusi sessuali vissuti per uso e abuso di sostanze o alcol, per ludopatia per internet addiction, per sessodipendenza per la bulimia, anoressia, depressioni appunto e quindi abbiamo pensato che questo percorso che aveva fatto così bene a persone morte veramente agli estremi, ai termini della loro vita io ho iniziato da termini, poteva essere utile a chiunque e infatti l'abbiamo un po' aperto a tutti non so solo quest'anno, hanno partecipato, facciamo due incontri al mese online hanno partecipato più di 20.000 persone da 60 paesi e abbiamo visto che i frutti sono grandi in tutti perché tutti noi oggi purtroppo abbiamo a che fare liberarsi dall'ansia, liberarsi dallo stress liberarsi dagli stati dell'animo negativo non è facile e anzi siamo talmente bombardati, adesso poi ci ritroviamo pure in una potenziale guerra nucleare, stavamo appena alzando il capo da questa pandemia che ci ha distrutti tutti ecco, liberarsi dagli stati d'animo, dal vortice dei pensieri negativi che di solito ti travolge è un po' un cammino da fare, un'arte da imparare però se tu prendi consapevolezza che il tuo stato d'animo dipende dai tuoi pensieri, i tuoi pensieri tu comunque li puoi controllare controllando i tuoi pensieri puoi controllare gli stati d'animo e fare una serie di esercizi che ti aiutano a farti ad esempio domande di qualità invece che domande che ti buttano giù e di solito quando ci succede qualcosa che non va magari andiamo a chiederci ma perché tutto è me oppure perché nessuno mi vuole bene oppure perché nessuno mi cerca che sono tutte domande che mettono in moto il cervello in maniera negativa perché proprio a me non ti fa trovare domande che ti aiutino a salire invece cosa posso fare per trasformare questa difficoltà in opportunità ma già ecco allora prendere io dico sempre prendere timone anche di quello che può essere il vortice di pensieri negativi stati d'animo negativi per trasformarli in positivi bisogna fare tanto allenamento e poi a Pasqua abbiamo la chiave delle chiavi che qualcuno che è venuto a dirci ci ha creato ed è venuto su questa terra a darci delle chiavi fondamentali proprio per come io sono la pace vi lascio la pace vi do la mia pace non come ve la dà il mondo io la dono a voi per me è tutto partito da questo da aver incontrato il risorto non da credere che Gesù è il risorto e quando tu fai un percorso che anche lì è un'arte la preghiera del cuore che ti permette di incontrare colui che è la pace e diciamo che la vita cambia molto perché questo ci porta ad un'altra storia chiara ci dona una pace che non è di questo mondo proprio perché in tanti tu hai raccontato di storie di persone che mancavano in qualcosa ma sono tanti quelli che abbiamo raccontato negli anni di Nuovi Orizzonti tanti sacerdoti che sono venuti qui che ci hanno detto quello che mancava era la luce dietro il sorriso era un sorriso molto spesso non finto però non pieno mancava proprio la pienezza di quel sorriso vogliamo aggiungere alla nostra chiacchierata una persona che di fatto aveva tutto aveva una bella vita eccolo buongiorno a Matteo Marzotto buongiorno a tutti grazie di avermi invitato io stavo dicendo Matteo tu di fatto avevi una vita perfetta perché ovviamente venivi da una famiglia che ti aveva lasciato anche un'impostazione credente ma era una fede forse di tradizione quando c'è stato l'incontro con Chiara hai riscoperto quella pienezza che c'è dietro un incontro come questo ma un incontro con la fede in generale ci racconti del vostro primo incontro? beh quello che si direbbe anziché Chiara definisce la dioincidenza lungo momento di riflessione molto difficile da una vita praticamente come hai detto tu perfetta che perfetta non era e qui ci siamo trovati non è stato casuale non è casuale ormai sono passati più di dieci anni era un momento particolarmente difficile ma in realtà era la coda di un periodo in cui avevo iniziato a farmi delle domande molto più attente molto meno molto più lontane diciamo cercando di isolarle dal rumore del mondo ecco io ho questo problema io sono uno dei tanti beneficiati dall'attività dall'opera di Chiara e da Chiara in realtà prima di tutto ancora prima dell'opera e mi rendo conto del lavoro enorme che c'è e del potenziale enorme che c'è in ognuno di noi prima di tutto nel credere e poi nell'alimentare nulla è gratis anche alimentare questa fede ognuno ha i suoi strumenti è chiaro che se si ha la fortuna appunto la dioincidenza di imbattersi in Chiara Mirante è una cosa diversa evidentemente è un vantaggio enorme Matteo è stato un percorso e continua a essere un percorso naturalmente come ogni percorso ci sono delle tappe particolari una di queste tappe è stata un viaggio a Medjugorje ce lo racconti fra poco dopo la pubblicità Tornati in diretta di Buon Mattino stiamo parlando della pace interiore di come liberare l'anima dalle paure dai pensieri negativi lo stiamo facendo con Chiara Mirante che è qui con noi e con Matteo Margiotto collegato in remoto Matteo ci siamo lasciati con te con l'incontro con Chiara abbiamo detto di questo incontro che di fatto ha dato un senso a tante cose in un periodo difficile in un periodo in cui di fatto la difficoltà era farsi delle domande in più era chiedersi quel qualcosa in più a cui molto spesso non diamo una risposta e lo facciamo di proposito ci siamo lasciati con un viaggio era il 2011 e tu arrivi a Medjugorje un luogo che per tanti costituisce un punto di svolta e lo ha fatto anche per te Sì, certamente la premessa è che io avevo una curiosa diciamo attrazione verso i santuari mariani per cui avevo girato un po' l'Europa anche in modo assolutamente turistico finendo sempre per programmare negli anni precedenti uno stop per esempio a Lourdes dove sono stato diverse volte e organizzando nel 2011 il viaggio a Medjugorje di qualche giorno in realtà devo dire che i primi due giorni sono stati piuttosto traumatici perché non era un luogo normale non era un viaggio di turismo come lo intendiamo a fine estate in piena vacanza è stato qualcosa di più e anche piuttosto violento devo dire si è costruito diciamo un'accelerazione di consapevolezza per cui appunto ho costruito un nuovo cammino in qualche modo che io non so se definire conversione probabilmente era abbastanza dentro di me anche da prima però era disorganizzata diciamo e quindi il Medjugorje un po' violento nel senso più positivo possibile del termine e l'incontro poi con Chiara Mirante e successivamente con Don Davide con l'opera mi ha dato diciamo un cammino da seguire non ripeto non facile tuttora ma che mi ha reso con grande insomma felicità uno dei beneficiati di Chiara Mirante di Nuovi Orizzonti quindi io cerco di fare quel poco che 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 mi riesce ma certamente vivo una vita con una consapevolezza diversa da prima ecco e con una motivazione e se vogliamo anche con la consapevolezza di quella gioia che non è solo un nostro tra virgolette dovere ma anche una è una bellissima è un bellissimo elemento della nostra vita ecco anche se ad accendere un telegiornale di questi tempi non è che proprio ci sia da sprizzare gioia da tutti i pori poi si guarda proprio in quello però proprio lì va anche a pescare il libro di Chiara perché è proprio un messaggio per tutti rispetto alle ansie che tutti quanti possono avere e rispetto al racconto di Matteo è anche una sorpresa oggi per te avere Matteo in questo studio lo sapevo ciao Matte ciao Chiara Matteo oltretutto diceva ha avuto in Meggiugorio un momento di svolta particolare assecondando un tarlo che gli rodeva nella testa una ricerca di domande di senso che è anche quello che dici tu rispondere a delle domande di qualità cercare di rispondere a delle domande di qualità è un primo passo e il passo precedente ancora è porsi delle domande che abbiano un senso ci poniamo tante domande nella vita ma non tutte queste ci portano in una direzione che poi ci possa appagare sì normalmente ci lasciamo un po' trascinare dal vortice della vita invece di vivere ogni attimo in pienezza per cui rischiamo di essere spinti dall'obiettivo del successo l'obiettivo della ricchezza l'obiettivo di affermarci di non deludere le aspettative degli altri ma si trova poco tempo per domandarsi ma quali sono i veri bisogni più profondi del mio cuore se non li ascoltiamo difficilmente poi riusciamo in quanto ci propone il mondo con prepotenza a trovare la realizzazione perché io dico sempre ai ragazzi poi ciò che ci rende felici veramente è l'esperienza di amore cioè donare amore ricevere amore e quindi se non ascoltiamo questa sette di amore infinita che oggi è ferita perché le relazioni usa e getta provocano delle ferite enormi il tradimento ormai tutti i ragazzini hanno già fatto questa ferita terribile del tradimento allora questo domandarmi ma quali sono i bisogni più profondi cosa voglio veramente cosa voglio realizzare qual è la mia missione e scoprire poi come diceva Sant'Agostino dopo la conversione tu hai fatto il nostro cuore per te il nostro cuore non trova pace finché non riposa in te perché c'è una sete infinita di amore nel nostro cuore che solo colui che l'amore infinito può colmare è il punto di svolta i ragazzi che arrivano anche questi giorni abbiamo fatto cinque giorni di ritiro per la Pasqua con tanti giovani da tutta Italia in collegamento con giovani da tutti i centri di nuovi orizzonti ed è stato bello vederli arrivare tutti molto provati perché fra pandemia guerra veramente i giovani hanno vissuto tutti noi ma i giovani in particolare questo tempo l'hanno vissuto drammatico sono arrivati appesantiti abbiamo fatto questo full immersion anche nelle ferite del cuore nella loro storia nel rivedere tutto quello che era avvenuto per cercare di capire come tutto anche il mare quello che ci ha ferito può concorrere un bene ed è stato per me ancora una volta sorprendente vedere il miracolo della resurrezione che hanno vissuto sono arrivati spenti distrutti alla fine era un'esplosione di gioia un'esplosione di resurrezione bellissimo ci arriviamo anche tra un attimo però volevamo fare una battuta finale con Matteo che ci deve lasciare perché se Matteo stamattina ha deciso di mettere un attimo in pausa i suoi impegni tantissimi e per cui lo ringraziamo è perché credo ci tenesse a testimoniare la gioia dell'incontro e la gioia di farsi quella domanda in più nonostante magari la vita ci stia andando bene nonostante come diceva Chiara viviamo un periodo tremendo però vorrei che fosse la tua ultima battuta un messaggio a coloro che ci stanno guardando da casa quello che tu hai voluto testimoniare con la tua presenza stamattina qui ma io ma io sono uno dei tanti guardate non esiste non esiste regola non è questione di soldi non è questione di posizione non è questione di medagliette come dice Chiara è chiaro che ognuno di noi deve fare un po' un compromesso con se stesso però c'è sempre una speranza ecco anche nei momenti più neri c'è sempre da guardare tenere bene i piedi per terra e guardare il cielo ecco c'è sempre la possibilità perché c'è sempre un nuovo giorno c'è sempre un Dio che ci vuole bene e c'è sempre la possibilità di migliorare noi stessi ecco questo è guardate il sorriso di Chiara ogni tanto cioè ne abbiamo parlato tante volte ogni tanto mi viene quasi nervoso perché quel sorriso lì lo vorrei avere anche io immaginate che io la chiamo GTU GTU per me vuol dire grande tesoro dell'umanità allora quando scherzo con lei la chiamo GTU perché ci sono i living legend sapete i living legend possono essere dei cantanti possono essere degli artigiani o degli imprenditori living legend invece ci sono anche i tesori dell'umanità e vanno tutelati bisognerebbe fermarla legarla perché se no lei non si risparmia di sicuro ecco Matteo Marzotto grazie a loro per essere stato con noi un abbraccio grande grazie grazie Matteo quello che dice Matteo insomma è quello che vediamo e che testimonia la tua vita prima ancora che le tue parole prima ancora che il tuo sorriso una cosa che diceva Matteo e la diceva anche Antonella Matteo si è fermato questa mattina si è preso quel momento tante volte nel quotidiano non lo facciamo travolti come sempre siamo però questo è uno degli insegnamenti pratici che tu dici uno di questi è prendetevi quel momento per mettervi in preghiera per cercare di focalizzare che cosa posso fare io che cosa è meglio affidare a qualcun altro e ci sono tanti trucchetti parola brutta ma insomma per intenderci tanti stratagemmi che tu insegni pratici proprio per vivere la vita quotidiana che può essere sapere quando mettere uno stop che può essere andare in una stanza della propria mente dove le cose sono un po' più belle rispetto a quelle che vediamo e che sentiamo da cui siamo bombardati sì sì è un esercizio che faccio ancora ogni giorno perché ovviamente io vivo da 30 anni immersa 24 ore su 24 in storie che sono delle vere e proprie tragedie anche questi giorni un ragazzo ci condivideva la sua testimonianza che oggi è uno dei ragazzi che aiuta però ci raccontava di aver visto il padre che si era ucciso la mamma era morta di tumore insomma questo essere sempre immerso in storie drammatiche certamente è difficile perché è molto pesante perché poi io le faccio veramente mie ecco e l'esercizio dello stop mi aiuta tantissimo cioè quando i pensieri iniziano ad andare è un nostro meccanismo di sopravvivenza il cervello si focalizza di solito su ciò che è potenzialmente pericoloso e doloroso per affrontare quel problema e risolverlo il problema è che poi diventa un circolo vizioso per cui quei pensieri ti travolgono e ti rovinano un po' tutta la giornata allora questo che accennavi tu subito accorgermi aspetta ma questa serie di pensieri mi sta semplicemente distraendo da quel bene che posso fare in questo momento o sto cercando una soluzione se vedo che non sto cercando la soluzione ma sono travolta stop a questi pensieri che non sono costruttivi cambio distanza cioè mi metto subito con tutta me stessa a vivere con pienezza quel momento che è unico che Dio ci dona e vedo che lì c'è una grazia perché se ci mettiamo nell'amore l'amore è luce ed è più forte di quelle tenebre che continuamente ci imprigionano e soprattutto l'esercizio che io cerco di fare è proprio quanto abbiamo contemplato in questa Pasqua io ho il dono della fede per cui quando mi sento schiacciata dal peso della croce mi fermo per lasciarmi raggiungere da quel ma quanto pazzamente ci hai amato Dio cioè tu che sei Dio ci hai amato fino al punto da prendere su di te la mia angoscia le mie ferite i tradimenti l'abbandono la solitudine i miei perché per darci la gioia per darci la pienezza per darci la risposta e lì trovo il mio scireneio lui ci dice venite a me ogni volta che siete affaticati ed oppressi e io vi darò il ristoro e faccio proprio questa esperienza che ho niente di meno che colui che è il signore della creazione che ha detto io ho vinto il mondo io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo e faccio l'esperienza che se porto a lui tutto quello che mi sta angosciando schiacciando facendo perdere la pace il principe della pace che già ha vinto mi fa il dono di sperimentare che è il suo amore più forte e quel qualcosa che mi schiacciava diventa un passaggio per risperimentare quella pienezza di gioia che lui ci dona e per portarla agli altri Chiara questo libro di fatto noi ne stiamo parlando da un po' però non abbiamo detto che è un libro che dà proprio dei consigli pratici cioè ci sono domande di sintesi ci sono punti da tenere ben presenti punti da tenere ben saldi ne prendo uno a caso non cadere in ostaggio delle mille aspettative o pretese delle persone con cui ti relazioni questo è uno dei punti saldi di Nuovi Orizzonti perché molto spesso ci chiediamo e riporta anche a quell'amore incondizionato che ci ha testimoniato la Pasqua molto spesso cadiamo vittima delle tante pretese delle tante aspettative senza poi focalizzarci su quell'amore incondizionato che arriva a chiunque nonostante gli errori nonostante gli sbagli che è quello che tu testimoni nella tua vita con Nuovi Orizzonti con tutti i ragazzi sì soprattutto i ragazzi ma poi un po' tutti abbiamo questo bisogno di sentirci approvati che non è altro che figlio del bisogno di sentirci amati perché chiaramente l'approvazione è un segno apparente che qualcuno ti può voler bene però quando questo bisogno di approvazione o la paura dei giudizi inizia a essere condizionante allora lì si diventa ostaggio cioè rischi di non fare più quello che è veramente importante e significativo quella che è la tua missione o per chi ha il dono della fede quella che è rispondere alla tua vocazione al disegno di Dio rischi di essere sempre lì e lemosinare l'approvazione dell'altro adesso i ragazzini stanno le ore sui social per un like per un cuoricino come se quello facesse la differenza ecco invece la differenza la fa quanto noi scopriamo la nostra missione nel mondo cosa io sono chiamato a fare in questo tempo così drammatico che ci interpella tutti in prima persona abbiamo paura di una guerra mondiale ma la guerra mondiale è già in atto e ciascuno di noi è chiamato dinnanzi a quello che di drammatico sta succedendo a fare qualcosa io dico ognuno di noi può mettere una gocciolina ma tante goccioline messe insieme sono delle scintille che possono illuminare questa notte terribile che l'umanità sta vivendo e se pensiamo ai santi noi li vediamo come persone uniche ma in realtà la volontà di Dio è la santità per tutti per cui realizzare il disegno di Dio significa permettere a Dio di operare grandi cose sulla nostra debolezza se io mi guardo indietro non faccio che vedere la mia debolezza fra l'altro ho anche varie patologie che mi rendono proprio difficile diciamo avere la forza fisica vedo tanta mia debolezza ma vedo miracoli su miracoli che lui ha operato quindi questo fidarci che Dio fa meraviglie e dire un semplice eccomi poi lui opera cose straordinarie con questo libro tu dici eccomi e soprattutto ecco a voi quindi noi lo vogliamo ricordare la pace interiore liberarsi dall'ansia dalle paure dai pensieri negativi edito da PM di Chiara Amirante oltretutto Chiara tu hai parlato di chi ha il dono della fede ma questo è un libro per tutti anche di chi magari quel dono lo deve ancora incontrare e ricordo quello che dicevi tu che la cosa importante non è tanto leggerlo ma fare gli esercizi con costanza allora quello ti cambia veramente la vita grazie mille Chiara Amirante di essere stata con noi lo sappiamo che è un periodo difficile ma siamo contenti di averti avuto qui ospite nostra grazie noi ci spostiamo perché dobbiamo darvi come sempre l'appuntamento per domani puntuale alle 7 e mezza Giacomo assolutamente sarà un mercoledì d'udienza e a proposito del Santo Padre ricorderemo anche l'incontro che c'è stato un incontro con tantissimi giovani 80 mila in piazza finalmente nuovamente i giovani a San Pietro adesso porte spalancate dell'ambulatorio medico di TV2000 allinea al mio medico con Monica e Fabiola a voi grazie